Salve! Per la prima volta, spedendo la cartolina, non solo fate felice una persona, ma partecipate anche alla creazione di un'opera d'arte. Vero che non ne spedite da un po'? Andiamo a vedere cosa dovete fare in questo caso. You haven't sent them for a while, right? Let's see what you need to do in this case. Ciao! 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 Il risultato finale sarà un'installazione d'arte fatta con le vostre cartoline. È vero, è un piccolo impegno. Ma è questo il valore. L'opera rappresenterà il vostro impegno, i vostri affetti a distanza, il peso della scrittura. Il risultato finale sarà un'installazione d'arte fatta con le vostre cartoline. È vero, è un piccolo committente. Ma questo è il valore. Il lavoro rappresenterà il vostro committente, le vostre affetti a lungo distanza, il peso del e il risultato finale.